Comunicate che cosa? La cosa più importante dell'essere umano che è l'emozione. L'emozione sta alla base di tutto, di tutto. Se voi conquistate il pubblico con l'emozione non vi molla più, vi vorrà bene per tutta la vita, per tutta la vita perché siete entrati nell'intimo, siete andati a parlare attraverso l'emozione con l'inconscio e con l'inconscio neanche voi stessi avete comunicazione, io non ho comunicazione con il mio inconscio, si chiama inconscio proprio per questo, proprio perché non hai coscienza di averlo, però esiste e viene programmato nei primi otto anni di vita ed è fondamentale per il resto della nostra vita, è quello che condiziona tutto. Ecco perché è così importante anche l'aspetto dell'educazione dei bambini e dei ragazzi. Quindi voi comunicate azioni, per comunicare azioni che cosa servono? Servono gli sguardi, servono le posture, serve la mimica, ma servono le parole. Le parole e quindi le parole per un attore sono lo strumento che gli serve attraverso l'emozione che sa costruire entrando nel personaggio e diventando quel personaggio. Questa è la parte più difficile, sembra facile a dire, ma è la parte più difficile.